Allora, per la prima volta nella nostra vita, penso, siamo stati chiamati per veicolare un messaggio importante, serio, e devo dire grazie a Salvatore. Un messaggio di speranza, un messaggio di... Sì, stavo per dire, ma soprattutto grazie a te che mi hai convolto, no? Io ho un cuore grande, so che tu hai un cuore grande, quindi cerco di... No, ma poi preparatissimo sul tema per parlare di... Di cuore grande e di... Sì, ma l'organizzazione di cui parliamo nello specifico si chiama? Ah, il World Food Programme, bravissimo, bravissimo. Che cosa fa? Che cosa fa questa organizzazione? Eh beh, ha un grande cuore e porta esperienza. Sì, vabbè, si occupa dei posti del mondo dove ci sono emergenze di portare cibo alle persone, per esempio, a quanti bambini nel mondo hanno portato i pasti a scuola? Eh beh, tanto. Lo saprai perché è un dato che hai balzato subito agli occhi a te, ma non è... Tu conosci questa organizzazione, quindi quanti milioni di bambini? Vabbè, non è che... Quanti milioni di bambini? Non è che mi sanno... 15 milioni di bambini, esattamente. Quante tonnellate di cibo nel 2020? Vabbè, però non è che... È un dato che ti fa al serio. Ma non è che mi sanno... 4,2 milioni di tonnellate di cibo in 84 paesi diversi nel mondo. Come vedete, Salvatore è preparatissimo, è stato preparato. E nel 2020 questa organizzazione, World Food Program, cosa ha vinto? E questo non può dire... Cosa ha vinto? Quando uno dice ha vinto? I mondiali. Quasi. Ha vinto il campionato europeo. No. Sare un poco di più? Non mi ricordo.